benvenuto a questo video tutorial su come costruire in 5 minuti un bastone da allenamento gommato al costo di 5 euro o anche meno ti serve un tubo in poliuretano che trovi normalmente nel reparto idraulica un tubo isolante anch'esso normalmente lo trovi nel reparto idraulica poi ti serve una cesoia a cricchetto che ti occorrerà per tagliare il tubo in poliuretano perché abbastanza duro e se lo fai a seghetto ci metti una vita delle normalissime forbici per tagliare appunto invece i tubi in materiale isolante e del normalissimo nastro americano potrebbe esserti utile anche un metro per poter misurare le pezzature in modo tale da fare dei tagli precisi ma potresti anche utilizzare dei bastoni magari che utilizzi per altri tipi di allenamento magari dell'allenamento a intensità più bassa come unità di misura andiamo iniziare e 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 se fai in modo diverso oppure vuoi sapere come costruire altri tipi di attrezzatura o come sostituire attrezzatura costosa con qualcosa diciamo che costi meno ma abbia lo stesso la stessa funzionalità scrivimelo nei commenti ricordati ricorda inoltre che se questo video ti è piaciuto metti un bel like di quelli belli forti sul mio video e iscriviti al canale e attiva la campanella in modo tale da poter rimanere aggiornato che altro voglio dire niente usa i bastoni consapevolmente e responsabilmente e e e e e e e e e